Abbiamo iniziato questa campagna di sensibilizzazione delle fasce deboli, in particolare in questo caso degli anziani, per cercare di prevenire e aiutarli sicuramente a prevenire e evitare di essere vittime di truffe. Abbiamo accettato volentieri l'invito che ci ha fatto l'Auser Provinciale di fare questo pomeriggio come informazioni per evitare possibilmente le truffe perché anche da noi qualche volta succede. Comando dei Carabinieri e Auser Provinciale uniti nel contrasto a truffe e raggine e danni degli anziani. Ha preso il via qualche giorno fa il tour che vede gli uomini dell'arma impegnati in incontri con i cittadini organizzati dai diversi circoli Auser del territorio. In tanti hanno raggiunto il centro civico di Sospiloro per cercare di capire quali sono i rischi più diffusi. Per evitare il più possibile queste truffe, questi raggiri che fanno agli anziani e non solo agli anziani perché qui è successo anche a qualcuno più giovane. Sembra una cosa normale che uno faccia delle domande e poi alla fine ci si casca. Anche il tenente colonnello Carraro ha rimarcato proprio la necessità di non fornire i propri dati personali a persone sconosciute, magari al telefono o a chi si presenta alla porta di casa come finto operatore di luce, gas o altri servizi. Attenzione poi alle grandi offerte che si trovano sui social e sui siti internet. Su tutto l'invito, in caso di dubbi e preoccupazioni, a contattare senza paura il 112. I consigli dei Carabinieri all'insegna del motto aiutatici ed aiutarvi sono pochi ma semplici. Cercare di evitare di rispondere magari al telefono e dare informazioni agli sconosciuti e di non fare entrare in casa persone che non si conoscono e di cambiare un po' le abitudini di vita, quelle classiche di non tenere troppo denaro in casa. Dopo l'appuntamento di Sospirolo, già in calendario altri due incontri, giovedì 30 alle 15 al municipio di Querovas e venerdì 31 alle 18 al centro Amo di Lamon.